Non so se ha mai parlato, fino a ora, da quando ha assunto, diciamo, questo luogo e ha messo ancora di più in prima linea con le ultime novità, diciamo, della pubblicazione Lazio, e quindi ritira questo premio del Ciro Immobile, credo una delle figure più belle dello sport del calcio liberiare, della terrazza solare, e non è qui semplicemente, perché Ciro e la sua signora stanno aspettando da un momento a l'altro l'arrivo del quarto genito. Il quarto genito chiaramente, Ciro ha programmato tutto per esempio, soprattutto per i tuoi ragazzi, per questa Giulia Stendina, per Raffaele, che invece eravamo sentiti in questi giorni, grandi maestri come il canto e tanti amici colleghi, giornalisti e sportivi. Saluto anche la vicepresidente, la vicepresidente Sitte Sanzi. Stamattina l'abbiamo pensato tutto per poter essere oggi come il gioco, ha impettiso il mister Sanzi, l'ordine del programma degli allenamenti, e quindi essendosi dovuto allenare stamattina, gli impegni interrogati dei familiari che faceva scelto, il live prima hanno reso possibile la sua presenza qui oggi. E' molto vicino a questo premio, in cui c'è la mia realizzazione. Io penso che Ciro sia una delle persone che amiche che fanno differenze, in mano non chiaramente, su un mezzo, se non ha l'opportuna invece di poter lavorare a sui campi, a piante o fuoco, in tanti altri campioni. E questo è un impegno molto gratificante e importante per noi, perché l'immagine di queste persone, di questi personaggi pubblici, è fondamentale. È fondamentale perché dà esempio anche per tante generazioni, per tanti ragazzi. Io penso che forse Giora appartiene, è per a Giora, no, ma la mia generazione, mi sono nascendo, lo dicevano anche Stefano prima, lo dicevano i colleghi, che è molto importante per il giocatore e per il mondo del calcio. Quindi spero che anche noi, in parte nostra, come comunicatori, possiamo dare una mano a voi per raccontare ancora meglio il calcio. Grazie. Grazie a tutti. In questo momento si sta creando, nel secondo anno di Mr. Sardi, una nuova armonia, anche per i nuovi aiutati, in questa squadra. Come dicevano in Italia, ci sono tanti favoristi, ma nessuna meglio donna. Il Ciro, la capitano, è il primo a cercare di contribuire anche a tre giocatori là fuori e alla crescita del valore di questa squadra. Quindi credo che l'importante sia andare in armonia senza primi a fuori, perché la squadra deve svolgere il suo lavoro proprio per questo e ha i grandi risultati di questo momento, che sta ottenendo anche il Ciro. Poi c'è anche quest'altra cosa che sta succedendo, in parte del mondo azio, perché abbiamo fatto tanti complimenti alla Roma che fa i sold-out, però il pubblico dell'Azio sta dando una risposta stupenda. Sta rispondendo, sta rispondendo. Abbiamo fatto una campagna con lì, finalmente, dopo il blackout degli anni scorsi. Abbiamo fatto uno stadio, anche gli ammurari, con quello del 12 e mezzo, che insomma è complicato anche per tutti la domenica. Qua si è saluto, continuiamo così, perché c'è un bellissimo spettacolo di differenziai, con le famiglie soprattutto, e in questo modo, diciamo, si superano tutte quelle paure che si hanno fatto andato a stare, e quindi anche veramente un maggiore per tutti, anche se la televisione non è un grandissimo spettacolo, ma sta a restare un'altra cosa. Quindi, quando vedo un ragazzino che stanno scorsi per la prima volta, l'emozione, perché non si è emozionato, 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 ma non si è emozionato. Grazie a Roberto Rao, e a tutti i miei figli, grazie a tutti i miei figli. Allora, taffè, amici, intanto diamo la mia energia a radio, e così non lo possiamo possibile, basta. Quindi adesso, diciamo, all...